Tardi a scuola Questo qua mi sa tanto di livello molto veloce che durerà poco ma che dovrò rifare un sacco di volte perché fallirò un sacco di volte Io odio i livelli a tempo e di velocità santo cielo Ah che bella casina La voce di Flash non è mai la sua A meno che non l'abbia visto veramente tanto tempo fa e non me lo ricordi ma non è la sua Hai dimenticato la roba Raggiungi la scuola prima delle 8 Abbiamo 5 minuti Triangolo per accelerare Va bene Oh calmo Questo vuol dire che non possiamo tenere premuto triangolo per troppo tempo Macchina infame Stavo dicendo non possiamo tenere premuto triangolo per troppo perché se no ci surriscaldiamo E questo non è sbueno Perfetto Ecco qua Madonna mia quella macchina che ha girato all'ultimo Mamma mia Madonna Quella era Pizza Planet Mi sa di sì eh Quella mi sa che era la macchina di Pizza Planet Ai ai tombini Stavo giusto dicendo mi sa che quello è un ostacolo Con calma Aspetta Rallenta Rallenta Ok Perfetto Siamo riusciti a passare in mezzo ai due camion Ecco qua Sì era Pizza Planet Guardalo Che figata Questi sono i dettagli che adoro in questi piccoli giochi eh E il flash regna certo Allora No Sì sei il flash però intanto i tombini ti rallentano Riusciamo a passare in mezzo Perfetto Ce l'abbiamo fatta Tra l'altro Dobbiamo raffreddarci un attimino Perché se no bruciamo Intanto passa Pizza Planet Evitiamo le macchie che passano Ora questo pezzo qua col camion Mi urta un sacco Questo pezzo qua con il camioncino Mi urta però Se rallentiamo Ecco fatto Qua ora passa la macchina Ottimo ovviamente Era lì ferma che ci aspettava Qua passa un treno Benissimo Bene Yes Ui Calmi Ma dai Ma mi hai seguito apposta per investirmi lo stronzo Dove sono? Ma mi hai seguito apposta Oh è vero Sto dicendo Cosa sono caduto io? E' quello da dove è uscito Oh Ai 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 Tirati su Tirati su Il flash è inciampato di nuovo Eh il flash è inciampato Non parla di te in terza persona Ok Stupide Madonna mia Eccola qui una rampa Visto? L'avevo chiesta Alla fine l'abbiamo ottenuta Calmi Calmo Ok dai che Dai che ci siamo Un'altra rampa Uh c'era un segreto lì L'ho visto di sfuggita Perché stavamo andando veloci Calmo Eccola lì la rampa Esattamente come in GTA Ma io l'ho mancata Perché ho preso la curva troppo larga Ovvio Ok Vediamo se a questo giro Riusciamo a prendere L'oggetto segreto Eccolo lì Preso Perfetto Ora qui Dobbiamo fare attenzione Perfetto Punto di controllo Dio mio Questa Questa era un po' stretta Però ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta tranquillamente Altra rampa Ok Ok Qua è stata colpa mia Che non ho avuto Abbastanza distanza di salto Però Ecco fatto Preso Sì 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 Raffreddati pure Tranquillo A meno che Qualcuno Non giri All'improvviso Dio mio Qua Questa era Proprio Incidente stradale 101 Allora Ci mancava anche il camion Con il coso aperto E sento di nuovo Il treno Io Ok Abbiamo rischiato di Eh che palla Abbiamo rischiata Qui eh Abbiamo rischiata Perché il tizio Ha curvato All'ultimo E io non riesco mai a evitare Questa cosa Qui E niente Qua non potevo evitarla O passavo subito O non passavo Quindi qua ora Subito Passiamo Perfetto Che sennò il camion Ce lo prendevamo Di nuovo in faccia Riusciamo a fare un salto Eccolo Qua no L'oggetto Dai E siamo arrivati Prima delle otto Ciao Quante calorie ho bruciato È questo che mi interessa Distanza 16 chilometri E la madonna Quanto abitiamo lontano 259 calorie Anche pochi